For I am the Lord, the Lord who heals you, I am the Great, I am, my joy is healing you, oh I am the Lord, the God of second chances, by his stripes he will impart my healing. Ciao amici e grazie per essere qui per questa speciale edizione di Generation XS. Continuiamo nelle nostre sessioni con Dritto al Cuore, un ministero di preghiera e discepolato. Oggi vedremo la seconda parte di Libertà da vergogna e senso di colpa. Paul, parlaci un po' di questo. Sappiamo che c'è un elemento chiave che aprirà questo mistero, se vogliamo chiamarlo così, che aprirà la comprensione di quello che abbiamo già visto. Forse puoi riepilogare ed elaborare quello che vedremo oggi. Tutto ciò che condividiamo a Dritto al Cuore, il ministero di preghiera e discepolato, è la sofferenza, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo. Non solo la morte e la resurrezione, ma sofferenza, morte e resurrezione. Abbiamo visto che nella sua umanità Gesù fu solo, abbandonato, tradito, ha subito abusi in ogni modo possibile, fu tentato di anestetizzare il dolore sulla croce, il che ha la base di ogni dipendenza. Gridò, perché mi hai abbandonato? Fu tentato di compiere miracoli. Se tu sei il figlio di Dio, puoi scendere. Se tu sei il figlio di Dio, dici che ti ha sputato in faccia ora che sei bendato. Abbiamo scoperto che se riusciamo ad aiutare le persone ad identificarsi con Cristo, che nella sua umanità passò quello che passò, questo intenerisce il loro cuore. Iniziano ad avere una speranza. Possiamo iniziare a muoverci dalle informazioni e all'applicazione tramite la preghiera e nel tempo, attraverso un processo di discepolato, possono sperimentare libertà. Forse qualcuno sta guardando per la prima volta. La ragione per cui questo è così importante è che la parola di Dio promette che tramite le sue illividure noi siamo guariti, tramite le sue ferite siamo guariti. Questo elemento del connettersi con la sofferenza di Gesù è del tutto biblico per avere speranza, libertà. Sì, è un elemento chiave del Vangelo. La chiamo la metà nascosta del Vangelo. La sua vita, sofferenza, morte e resurrezione costituiscono l'intero Vangelo e include la vita e la sofferenza. Lo abbiamo applicato a Romani 4, dove dal racconto dell'Antico Testamento sappiamo che Abramo rise incredulo quando Dio gli disse che avrebbe avuto un figlio. Sappiamo che entro tre mesi, due o tre mesi da quel fatto, fece mentire Sara una seconda volta nel dire al re che era sua sorella e non sua moglie perché aveva paura di perdere la vita a motivo della bellezza di Sara. Questo avvenne dopo che aveva ricevuto la promessa. Ricevette la promessa in Genesi 17, rise incredulo. In Genesi 18 Sara rise incredula. In Genesi 20 la fece mentire al re. In Genesi 21 Isacco nacque e in Genesi 22 mise Isacco sull'altare. Alla fine Abramo ebbe fiducia in Dio riguardo a ogni cosa che aveva. Wow! Ben, non è che Dio gli ha mandato un sogno. Dio si è presentato di persona per parlargli. Pensi che se Dio ti desse un messaggio speciale lo comprenderesti? Ok, ubbidirò. Molte persone dicono se Dio mi mostrasse qualcosa la mia vita sarebbe trasformata o completamente diversa. Ma Abramo lo vide. Dio andò da lui visibilmente e gli diede queste promesse e anche dopo aver ricevuto la promessa, come ha detto Paul, fece mentire Sara una seconda volta per salvarsi la pelle. Cercò di proteggersi da solo quando avrebbe dovuto fidarsi di Dio. Come essere umano fallace vedo i miei fallimenti ogni giorno. Sono colui che conosce tutto di me stesso. Se le persone veramente conoscessero la mia vita, chi lo sa, scapperebbero a nascondersi. Il fatto che Abramo è uno degli eroi della Bibbia, eppure eccolo qui, in Romani 4, ricevere una storia che non sembra essere sua, come abbiamo detto nella scorsa sessione. No, quello che abbiamo visto l'ultima volta è che Paolo ha riscritto la storia radicalmente, ha usato le parole come ha sempre creduto, sperato contro ogni speranza. La storia dell'Antico Testamento riporta che disse, ho cento anni, lei novanta, siamo seri. Paolo dice, non dubitò per incredulità. Direi che ridere, non credere e mentire su tua moglie dopo aver avuto la promessa da Dio che avrebbe avuto un figlio da lei, io lo chiamerei dubitare. Assolutamente. Questo è Romani 4. Questo è Romani 4, 18 e 19. Dice che non dubitò, il versetto 20 dice che fu fortificato nella fede, che diede gloria a Dio. Eppure qui c'è un uomo che mentì non una ma due volte, sua moglie che era sua sorella, per salvarsi la vita, e l'ha messa in due arm diversi, del faraone e di Abimelec. È una lista di superlativi, versetto 18, 19, 20. Ed è una storia fantastica. Poi arriva al versetto 21, dove esagera dicendo che era pienamente convinto che Dio era in grado di compiere ciò che aveva promesso. Questo riguarda il fatto che Abramo credeva che avrebbe avuto un figlio. Non riguarda Abramo che mise sull'altare Isacco, come invece la maggioranza interpreta. Ma non c'è niente in Romani 4 su Abramo che mette sull'altare Isacco. Tutto parla in Romani 4 di Abramo che credette che Dio gli avrebbe dato un figlio. Riguarda la nascita di Isacco, non Isacco messo sull'altare. Infatti nell'Antico Testamento, quando Dio gli parlò, disse, ho cento anni, mia moglie è novanta, non c'è modo. E rise incredulo. Romani 4 dice che guardò al suo corpo come morto, guardò al corpo come morto di sua moglie e disse Dio ad impirare la sua promessa, egli può fare l'impossibile. È una riscrittura assoluta. Abbiamo visto che crea tensione. La cosa che volevo dire è questo non crea tensione. Commentatori che cercano di scrivere in maniera diversa, che cercano di dipingere questo passaggio in una luce diversa. Sembra quasi che qui la Bibbia contraddica se stessa oppure dica qualcosa che non sia proprio preciso. E noi crediamo nella Bibbia. Crediamo che sia al 100% autentica, che non contraddica se stessa. Ma qui c'è una tensione. C'è una, come dire, c'è una sfida. Sembra che ci sia una grande contraddizione qui. Suona come una grande contraddizione, ma come abbiamo detto nella prima parte, questo è un ottimo capitolo per imparare a studiare nel contesto. Perché se guardiamo a tutte queste affermazioni sembrano radicalmente false. Se fosse solo un versetto potremmo leggerlo diversamente, aggirarlo, ma versetto, dopo versetto, 18, 19, 20 e 21, Paolo dice cose radicalmente opposte alla storia dell'Antico Testamento. Non si possono dedurre dalla storia dell'Antico Testamento in nessun modo. E il versetto 21, cioè 22, dice questo è il motivo per cui gli è stata accreditata la fede, o imputata, se vogliamo usare un termine teologico. Gli fu accreditata la giustizia per una registrazione non vera dei fatti. Poi abbiamo continuato a leggere i versetti 23 e 24, e cosa dice? Questa storia non è solo per Abramo, ma... Ma anche per noi. Ma anche per noi. Quindi questa storia che non corrisponde al vero, perché, ricordate, la storia di Abramo ha avuto molti alti e bassi, molti alti, lodi a Dio, ma bassi, molto bassi, bassi alla grande. Non stiamo buttando giù Abramo. No, era un uomo di fede. Fu dichiarato giusto in Genesi 15, mise Isacco sull'altare in Genesi 22, ma nel mentre ha avuto alti e bassi. E la buona notizia è che Dio ha potuto operare con Abramo ed essere fedele con Abramo, con i suoi alti e bassi. Qual è il messaggio per te e per me? Se accettiamo l'umanità di Abramo, qual è il messaggio per te e per me riguardo la nostra umanità. Egli può riscrivere la nostra storia. Può riscrivere anche la registrazione della nostra storia. Se posso accettare l'umanità di Abramo, posso accettare anche la mia umanità. Allora posso dire Abramo ce l'ha fatta, così sarò come Abramo. Corretto. Vivi con più forza di volontà, focalizzato su di te, cercando di vivere bene. Questo non è un messaggio di speranza solo per i cristiani, ma per ogni essere umano. Assolutamente. Perché la verità di ogni filosofia del mondo è che nessuno veramente vive all'altezza della filosofia nella quale crede. Non importa se non sono cristiani. Ogni altra religione dice che c'è un modo per innalzarsi con le proprie forze e diventare uguali a Dio oppure per scappare dalla realtà per sempre. Il cristianesimo dice che Cristo ha colmato il vuoto, è sceso perché noi non potevamo fare niente e ci offre la sua vita perfetta. È un approccio completamente diverso. Ma anche i cristiani possono cadere nel dire ce la farò questa volta, mi libererò dall'alcol, droghe, sesso, pornografia, cibo, ce la farò questa volta. Abramo fu dichiarato giusto e poi peccò diverse volte molto seriamente. E prima che mettesse Isacco sull'altare, molto prima che mettesse Isacco sull'altare, questo dovrebbe darci speranza che se andiamo da Dio con il nostro peccato, vergogna e colpa con tutti i nostri fallimenti e gli lasciamo compiere un'opera nella nostra vita e gli riscriverà la nostra storia. È veramente come dare un'occhiata al libro della vita. E lo sappiamo perché dice che non è solo la storia di Abramo. Sappiamo che quella che Paolo descrive come la storia di Abramo non è soltanto sua. Perché? Perché Romani 4 ci dice che non lo è, che è per noi, ma poi specifica chi sono i noi che ottengono questa storia sulla base della conclusione di Romani 4? Quelli tra di noi che credono in Gesù Cristo risuscitato dai morti. Nel Dio che è risuscitato dai morti, Gesù Cristo, per giustificarci. Questa è la giustificazione, non la santificazione. Se noi sperimentiamo questo tipo di giustificazione e crediamo che Dio è così buono, correremo verso di Lui o via da Lui con il nostro peccato, vergogna o colpa? Se sapessimo che Dio è così buono, correremmo da Lui. In uno sprint! Abbiamo parlato l'ultima volta dei nostri membri di Chiesa. Sappiamo che direbbero che siamo salvati per fede e non per opere. Ma quando pensano al loro nome che è esaminato nel giudizio, hanno più fede o paura? Mi piace pensare al fatto che ogni volta che vedo la polizia che mi segue, sento pace nel mio cuore? Oppure ho ansia nel mio cuore? Ogni volta che vedo la polizia fermarsi, tengo entrambe le mani sul volante. Cosa sto sbagliando? Il libretto è a posto ma ti sta seguendo da 6-8 isolati. Cosa succede alla pressione sanguigna e alla tensione? C'è una reale paura del giudizio e molte persone, se sono oneste con se stesse, incluso me stesso, questo messaggio è un messaggio di speranza. C'è una chiave per risolvere il puzzle e penso sia parte di ciò di cui parleremo oggi. Vuoi condividerlo con noi? Sì, perché la questione del giudizio è importante, perché Gesù Cristo ha preso la nostra condanna su di Lui. Romani 4 rivela quello che Dio fa per noi, riscrive radicalmente la registrazione della nostra vita quando lasciamo che Gesù sia giudicato al nostro posto. Se guardate Romani 4, abbiamo visto i versetti da 18 al 25, abbiamo visto che i versetti da 18 al 22 sono l'opposto della sua storia, proprio l'opposto. Abbiamo visto i versetti 24 e 25 e abbiamo visto che non è solo la sua storia, è anche per noi che crediamo che Dio abbia risuscitato Gesù dai morti per giustificarci. Ma se considerate il versetto 17, qui troverete perché Abramo riceve una storia di fede perfetta, speranza perfetta, che si rafforza ad ogni passo del cammino. Credette sempre, non dubitò mai e secondo il versetto 21 era pienamente convinto. Ora la storia di Abramo ci dice che era pienamente convinto? Non secondo la Bibbia, no? Ora sappiamo che è la storia di Gesù, ma se guardiamo al versetto 17, ci dice chi è il Dio nel quale Abramo credette e ci dà una caratteristica molto specifica del carattere di Dio, non tutte le caratteristiche, ma una specifica, una caratteristica molto importante. Dice che Abramo è nostro padre davanti a Dio a cui egli credette, fino a cui va bene, è il padre dei fedeli, è nostro padre. Il Dio che fa vivere i morti e chiama le cose che non sono come se fossero. Questo è il Dio che chiama le cose che non sono come se fossero, anche se ancora non sono. Guardiamo il versetto 18. Dice che contro ogni speranza, contro ogni speranza Abramo credette, è coerente con la storia dell'Antico Testamento? No, Dio ha chiamato la storia di Abramo qualcosa che non è. Vediamo il versetto 19. l'Antico Testamento dice, ho cento anni, sarà novanta, rido incredulo. Romani 4, 19 dice, ho cento anni, lei novanta, Dio può fare l'impossibile, può adempiere le sue promesse. Che cosa ha fatto nel versetto 19? Dio ha chiamato la storia di Abramo qualcosa che non è. Ha riscritto ancora la sua storia qui. Poi il versetto 20 dice che non dubitò per incredulità, ma la sua fede si fortificò dando gloria a Dio. Ora non c'è donna, non c'è moglie che dirà che suo marito, avendole detto di andare a far parte di un harem, l'harem di qualcun altro, il re o il faraone, nessuna donna, nessuna moglie chiamerebbe questo comportamento non dubitò mai, sempre fortificandosi, sempre dando gloria a Dio. Questa è una riscrittura radicale, ma Gesù aveva questo tipo di fede. Ora Dio ha chiamato la storia di Abramo qualcosa che non è. Lo fa di nuovo. Poi arriviamo al versetto 21, pienamente convinto che Dio aveva il potere di fare ciò che aveva promesso, sembra che abbia caduto in Dio. C'è un piccolo problema. L'Antico Testamento ci mostra che Abramo credette in Dio. Rise in faccia a Dio. Entro i successivi tre mesi dopo aver ricevuto la promessa, Dio venne personalmente e disse cambia il tuo nome, cambia il nome di tua moglie, avrai un figlio e lui rise incredulo. Entro i tre mesi successivi cosa fece? Fece mentire nuovamente Sara. Fece a Sara di mentire per lui, il che la fece entrare a far parte dell'harem di un altro uomo. Di nuovo? Di nuovo, entro i tre mesi dopo aver ricevuto la promessa. A livello cronologico non c'è spazio perché si è arrivato al punto da dire ho capito, credo nella promessa. E anche se ci è arrivato, la Bibbia non ci dà quest'opzione, ma anche se ci è arrivato, potremmo dire che fu pienamente convinto? No. Quindi di nuovo Dio ha chiamato la storia di Abramo qualcosa che non è. Poi arriviamo al versetto 22. Gli viene accreditato come cosa? Giustizia. Questo è il punto in cui, nella sessione precedente, ho detto questo è il motivo per cui ti ho sentito descriverlo come giustificazione per fede sotto steroidi. È esagerato. Pensiamo che il meglio che possiamo sperare è che Dio possa rimuovere i segni neri dalla lavagna bianca in modo che possa imbucarmi in cielo. Qualcuno potrebbe non essere d'accordo, ma molti cristiani sperano contro ogni speranza che saranno perdonati, confessano i loro peccati, ne portano il senso di colpa, pensano al loro peccato, pensano ai loro schemi che li portano a sbagliare e non sono veramente sicuri di essere strappordonati. Ora, è dichiarato giusto, è imputato, è accreditato, è un dono. Fu dichiarato giusto in Genesi 15 prima di aver detto a Sara di mentire una seconda volta. Quindi non si dimostrò così giusto che Dio lo potesse chiamare tale. Non lo dimostrò con le sue forze, il suo intelletto o le sue scelte. In realtà fu dichiarato giusto prima che tutte queste cose buone avvennero. Sì, si chiedeva di Dio in tutti i suoi fallimenti. Quindi ora, Dio ha dichiarato che la storia di Abramo è uguale alla storia di Gesù Cristo nella sua giustizia. Come lo sappiamo, i versetti 23, 24 e 25 ci dicono che non è solo per lui, ma anche per noi che crediamo in un Dio che ha risuscitato Gesù dai morti per dichiararci giusti. Quindi qui abbiamo una storia che è esageratamente opposta alla sua storia nell'Antico Testamento. Ci ha detto che non è solo la sua storia, ma anche la nostra, e poi ci viene detto al versetto 17 che Dio chiama le cose che non sono come se fossero. E nei versetti che seguono che cosa fece Paolo sotto l'ispirazione dello Spirito Santo? Riscrive la sua storia. La chiama qualcosa che non è al versetto 18. La chiama qualcosa che non è al versetto 19. La chiama qualcosa che non è al versetto 20. La chiama qualcosa che non è al versetto 21. Poi la chiama come ciò che è. È la vita perfetta, la storia di Gesù Cristo. Wow! Una delle cose che vorrei analizzare è il fatto che questo messaggio riguarda la libertà dalla vergogna e dal senso di colpa. L'applicazione pratica, come tutto questo, cambia le vite delle persone. Paul, in base alla tua esperienza, com'è che Dio porta speranza e libertà tramite questo messaggio? Anche io e Ben condivideremo un paio di cose. Una signora è venuta da me e mi ha detto, provo così tanta vergogna che non posso dirti che cos'è. Avevo una scelta da fare. Nel mio ruolo pastorale potevo cercare di farle dire ciò che non voleva dire. Oppure potevamo aspettare fino a che si fosse sentito meglio. Non meglio volevo dire fino a che fosse stata pronta a dirmelo, ma ho dovuto dire questo vuol dire che continuerai a vivere con la tua vergogna. Quindi potevo farle dire ciò che non voleva dire. Potevo lasciarla nella vergogna, ma quando si è identificata con Cristo, che è un elemento chiave di dritto al cuore, ho detto c'è una terza opzione. Possiamo identificarci con Cristo che ha lottato per arrendere la sua volontà a quella del padre nel giardino e ricevere il suo spirito di sottomissione per andare dove Dio ti sta chiamando ad andare. Proprio come Gesù si è arrese al padre per andare dove non voleva andare. Ha scelto l'opzione numero 3 e quindi abbiamo detto una preghiera. Caro Padre Celeste, grazie perché Gesù ha lottato per arrendere la sua volontà nel giardino, per adempiere la profezia, in modo che potesse portare alla morte sulla croce tutte le mie difficoltà ad andare dove tu vuoi che vada. È resuscitato, che è Romani 4, Dio lo ha resuscitato dai morti, in modo che io possa ricevere lo spirito di sottomissione di Gesù. Poi mi ha detto mia figlia, ha avuto un aborto spontaneo. Questo non dovrebbe provocare senso di colpa e vergogna, intensa vergogna. Dovrebbe provocare dolore e senso di perdita. Sappiamo che ci deve essere qualcos'altro. Era la figlia, non lei. Avrebbe dovuto essere addolorata per la perdita, non vergognarsi. Così ho detto puoi raccontarmi, ancora non ce la faceva. Ancora una volta avevamo le tre opzioni. Chiudere, lei si sarebbe tenuta la vergogna. Avrei potuto convincerla, cosa che non volevo fare. Avrei potuto, ma non volevo. Oppure potevamo identificarci con Cristo un'altra volta. Caro Padre Celeste, grazie perché Gesù ha lottato per arrendere la sua volontà nel giardino, perché non voleva andare dove tu volevi. La sua carne lo tentava, per portare alla morte sulla croce tutta la mia vergogna e tutta la mia incapacità di andare dove tu vuoi che vada. Così da poter suscitare Gesù e io potessi ricevere il suo spirito di resa alla tua volontà. Lo abbiamo fatto due o tre volte e alla fine tutta la storia è venuta fuori. Il fatto è che 40 anni prima lei stessa aveva avuto un aborto. E quando sua figlia ha perso il bambino, ha detto tutta la vergogna è uscita. E ascoltate, spero che ogni cristiano stia ascoltando, i non cristiani lo capiscono. Ha detto nella mia testa, sapevo che Dio non avrebbe ucciso il bambino di mia figlia, sapeva che avrei lasciato mia figlia libera di abortire per quello che avevo fatto io 40 anni fa. Ho già confessato questo. Sapevo nella mia testa che Dio non è così, ma nel mio cuore, nel cuore come Abramo rise nel cuore, nel mio cuore era colpa mia. Mia figlia stava pagando il prezzo per il mio peccato. Stava chiaramente facendo la differenza tra la testa, sapevo che Dio non l'avrebbe fatto, e il cuore che dice è colpa mia, mia figlia ne sta pagando il prezzo. Non ho cercato di convincerla, Dio ti ha perdonato, grazie per aver confessato, non te lo rinfaccia. E avresti potuto perché è la cosa più facile da fare. Lo vogliamo fare perché non vogliamo portarlo. Non fatelo, non fatelo. Il problema è le nostre parole che non cambiano le convinzioni. Non abbiamo potere. Gesù dava informazioni perfette, aveva una dottrina perfetta, una verità perfetta, questo ha cambiato le convinzioni dei suoi discepoli nel loro cuore dopo tre anni e mezzo e dire andrò alla croce? No. Quindi se le parole di Gesù per tre anni e mezzo non poteranno cambiarle, forse nemmeno le mie parole ce la faranno. Forse. Solo forse? Meglio dire al cento per cento. Io non volevo convincerla, volevo che ne parlasse al Signore, quindi ciò che ho fatto è, ho detto, preghiamo, sappiamo che Gesù si può identificare con noi nella nostra sofferenza perché fu solo abbandonato o tradito. Lei aveva sedici anni, si sentiva sola, pensava, se non faccio sesso perderò il ragazzo e sarò sola. Ha avuto rapporti ed è rimasta incinta e il ragazzo è scappato, ora è più sola o meno sola? Più sola ora. E ora non solo si sentiva più sola, ma ora aveva una convinzione riguardo a se stessa. È colpa mia, sono un'assassina. Lo confessa ma rimane lì. Il diavolo mette bugie nel mio cuore prima che pecco, mette bugie nel mio cuore dopo che pecco. Quello che vogliamo fare, Gesù può identificarsi con la solitudine, ne abbiamo parlato in altre sessioni, perché era solo nel giardino, solo nel deserto, completamente da solo sulla croce. Michael Card lo chiama il Dio abbandonato da Dio, sentiva che Dio lo aveva abbandonato. Come poteva identificarsi con il suo peccato? Seconda Corinzi 5,21 dice che colui che non ha conosciuto peccato, amo l'equilibrio nella Bibbia, non ha conosciuto peccato, fu fatto peccato. Cosa vuol dire per Sherry che ha avuto un aborto 40 anni fa e crede è colpa mia, sono un omicida? Certo, perché qualcuno potrebbe chiedere, Gesù non hai mai avuto un aborto, non puoi capire. Ma questo in realtà racchiude tutto, vero? Cosa significa che lui che non ha conosciuto peccato, fu fatto peccato? È diventato il suo peccato, come se egli fosse stato il colpevole. Quanto intimamente si può identificare con lei? Molto intimamente. Sulla croce diventò Sherry che ha avuto un aborto credendo è colpa mia, sono un'assassina sopportando il dolore, la perdita e la vergogna. Quindi possiamo connettere la sua storia di peccato con Gesù che si è identificato con il suo peccato e sendo stato reso il suo peccato, sebbene non avesse mai peccato. Può identificarsi con sentirsi sola e non amata? Sì. Sì, senza dubbio. Quindi può identificarsi con il suo peccato e la sua sofferenza? Quando abbiamo pregato su questo, ha sperimentato la libertà, sei mesi dopo ha visto un mio membro di chiesa nel vicinato, andava in un'altra chiesa e gli ha detto di a Paul che sto sempre bene, prima che mi trasferissi da questa chiesa è venuta. E mentre mi salutava ho detto, mi dai il permesso di condividere la tua storia, ho cambiato il suo nome per proteggere la sua privacy. Ha detto di sì e ora ha portato la sua storia letteralmente in tutto il mondo per dare alle persone la speranza che Dio può identificarsi con i nostri comportamenti peggiori, le nostre decisioni peggiori, le nostre convinzioni riguardo noi stessi. Perché Isaia dice più volte che Gesù è il nostro sacrificio per il peccato, sacrificio per la colpa. Ora può vivere libera e ora la sua storia è alla vita perfetta di Gesù nella purezza, alla vita perfetta di Gesù come genitore e la sua pace. L'identità di Satana per lei era io sono quella che ha avuto rapporti al di fuori del matrimonio, io sono quella che ha avuto un aborto, sono la causa dell'aborto spontaneo di mia figlia. Gesù soprascrive tutto questo, lo rimuove dall'identità che Satana le dà e le dà l'identità che lui ha per lei. Ebrei 10, 10-14 dice che Gesù ha reso perfetti per sempre quelli che santifica. Puoi fare meglio di essere reso perfetto per sempre? No, ma dobbiamo riceverlo sempre di più ogni giorno. Quindi stai parlando di Gesù che riscrive la nostra storia, hai citato 2 Corinthians 5,21. Egli è diventato il nostro peccato, è diventato il nostro passato e in cambio hai riscritto la nostra storia donandoci la sua giustizia e noi la riceviamo. È questo ciò di cui stai parlando? Sì, la sua giustizia, la sua purezza, il suo perdono. Vorrei tornare un attimo indietro alla vergogna e al senso di colpa che impediscono alle persone di sperimentare la pace. Abbiamo ascoltato le storie, abbiamo a che fare con il dolore delle persone ogni singolo giorno. Molte volte ricevi una telefonata la sera tardi e non sono mai buone notizie, sono brutte notizie. In una delle chiese di cui ero pastore un po' di tempo fa c'è stato un caso di infedeltà e uno dei due coniugi, quello che aveva avuto la caduta morale, sembrava paralizzato dalla vergogna, al punto che dopo mesi il coniuge sapeva che io sapevo avevo pregato con l'altro coniuge eppure non riuscivano a invitarmi a motivo della vergogna. Grazie a Dio, dopo molta preghiera e intercessione, alla fine sono riuscito ad andare a casa loro e la prima cosa che successe fu un senso di sollievo. Satana tiene le persone prigioniere con la vergogna e impedisce che sperimentino la liberazione. Hai qualcosa da condividere con noi, Paul? Il punto è che la vergogna isola, vero? Ti nascondiamo dagli altri, tu saresti andato mesi prima a trovarli per aiutarli a trovare guarigione e libertà in Cristo, ma c'era la vergogna, la convinzione riguardo a se stessi, sono una cattiva persona, non sono abbastanza buono, non posso essere perdonato o qualcosa del genere, non posso guardare il pastore negli occhi perché sono sicuro che pensa che sono una persona terribile. Satana è il padre delle menzogne, non parla a te e a me usando il tu, come noi facciamo, ma mi arriva il pensiero, io sono cattivo, non posso essere perdonato, è colpa mia, quindi ricevo questo messaggio sottile, io sono in difetto, io sono cattivo, io non sono abbastanza buono e perciò non posso guardarti negli occhi perché se tu mi riconoscessi veramente e sapessi quanto sono malvagio non mi accetteresti, la realtà è che tu l'avresti accettato e condotto alla guarigione e alla libertà in Cristo, ma la tua convinzione gli impediva di ricevere ciò che tu avevi da offrire. Questo è uno strumento forte del nemico per tenerci lontani dalla fonte, in altre parole è strategico per lui mantenerci nella vergogna e nel senso di colpa nella nostra vita così da non farci fare il passo di ricevere pace, libertà, speranza, guarigione, tutte queste cose, vero? Sì, Romani 4 può essere uno strumento potente, sei già dispiaciuto, avresti voluto che non fosse mai successo, se potessi cancellarlo lo faresti. Questo è ciò che Dio vuole che tu faccia se hai a che fare con convinzioni su te stesso che ti hanno portato a peccare, convinzioni che hai a causa del tuo peccato, tutta la tua colpa, tutto il tuo rimorso e tutta la tua vergogna, se portiamo tutto al Signore e gli parliamo. Sapete, i pastori ci dicono sempre che non sanno affrontare la sofferenza umana non solo nelle loro vite, ma anche nelle vite dei loro membri. Dovremmo farli identificare con le sofferenze di Cristo, identificare con Cristo che è diventato il nostro sacrificio per il peccato e farli portare tutto ciò che hanno menzionato alla croce e pregare, portarlo alla croce ancora e pregare, portarlo alla croce e pregare ancora e incontratevi con loro e vegliate, ora quell'uomo può aiutare altri uomini che sono caduti nella stessa area. Ora il mio peccato è diventato la miniera d'oro della grazia di Dio, come la donna al polso che ha iniziato a testimoniare. E' andata a dire alla gente ciò che Dio le aveva rivelato e la speranza che le aveva dato e ha portato persone a Gesù. Sai, come faccio a sapere che ha sperimentato la grazia come anche i discepoli? Le persone che hanno sperimentato grazia non si nascondono, dicono questo è come ero, questo è ciò che Dio ha fatto per me, questo è ciò che Dio ha fatto per te. Magnifico. Concludendo questa sessione, Paul, come possono le persone mettersi in contatto con te, chi ci sta guardando ora? Qual è il sito con le informazioni? Hai anche messo tutto questo in un libro. Romani 4 non è ancora nel libro, ma il messaggio principale che abbiamo è nella metà nascosta del Vangelo, come la sua sofferenza può guarire la tua. Il nostro sito è straighttotheheart.com, con il numero 2 e non con la parola tu. Ok. La mia email è paulchiocciolastraytotheheart.com, il numero 2 e non la parola tu. Abbiamo dei blog, delle risorse per la formazione, abbiamo un calendario, risorse per la gente. Questo messaggio è qualcosa che tutti devono sentire, è un messaggio di liberazione e una volta che inizi a sperimentare speranza e libertà, ne vuoi sempre di più. Questo processo di preghiera è uno stile di vita, è cercare il cuore di Dio, cercare una preghiera alla volta, speranza e guarigione. Sono felice che siate stati insieme a noi in questo episodio di Generation XS. Vi invito a continuare a seguirci. Il ministero di preghiera è discepolato dritto al cuore a molte altre cose che speriamo siano una benedizione per voi e le vostre famiglie. Dio vi benedica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.